Non sono passati neanche quattro giorni dall'insediamento del nuovo sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e le prime notizie che filtrano dalla sede comunale di via Ruccellai non sono per niente buone. La nostra amministrazione sarà costretta dal prossimo mese a dichiarare il dissesto finanziario, afferma il primo cittadino, che prosegue. Si tratta di una pesantissima eredità che condizionerà l'azione di risanamento che avevamo programmato durante la campagna elettorale legandoci le mani. La situazione finanziaria è drammatica, siamo debitori con la discarica di Viterbo per 800 mila euro e restando in tema sembra che la Gesam, che ha in appalto la gestione dei rifiuti urbani, debba avere due milioni e mezzo. Il capitolo economico appare quindi caldissimo nell'agenda della nuova gestione ed è lo stesso Tidei a sottolineare la delicatezza del momento. Ci sono problemi gravi da affrontare e situazioni che non devono ripercuotersi su una macchina amministrativa che ho trovato demoralizzata e sfiduciata. Questa città ha bisogno di ripartire dopo dieci anni di nulla.